Grazie per la partecipazione, folta più dei miei capelli sicuramente e ho scelto un po' un argomento, è un po' strano quando uno decide l'argomento di una conferenza, di una presentazione tra l'altro questa è la prima che si fa dopo lungo tempo visto che ormai siamo abituati a vivere un po' in questo acquario digitale Zoom, Meet, Webinar e quindi è anche molto bello ritornare a vedere delle persone o dei cristiani come direbbe mio padre e quando Pietro, organizzazione di investing, mi ha chiesto di fare una presentazione sapendo che comunque partecipavo a una conferenza molto incentrata sul trading ho pensato un po' come spesso mi piace anche fare le cose in modo non convenzionale parlare più dell'investing, è un po' una provocazione visto che qui molti che vengono a queste presentazioni, a questi eventi sono legati a questi due pendoli, il trading e l'investing anche se alcuni, penso a un analista, un gestore inglese molti anni fa aveva predetto che queste due attività in realtà andavano sempre più ad assomigliarsi, è quello che in effetti sta verificando, poi il trading è un po' quello che vuole fare veloce, la lepra e il coniglio, mentre invece l'investing è più la tartaruga, però la tartaruga spesso ottiene dei grandi risultati e si prende anche delle belle rivincite nei confronti di quelli che pensano che facendo velocemente otterranno migliori risultati e poi noi qua stiamo a parlare di tartaruga ninja, di quello da cui vogliamo imparare e quindi quando ho pensato a questa conferenza, prendendo anche un po' spunto d'altre naturalmente che avevo fatto, ma non mi piace mai ripetere le stesse cose, ho pensato di presentarvi una serie di personaggi che alcuni vedevo che commentavate che nel mondo della finanza, degli investimenti sono per me, ognuno di noi ha una sorta di mappa degli autori, dei gestori, di quello che ha studiato e letto, che gli hanno lasciato più delle fonti di ispirazione per quello che riguarda poi il proprio approccio agli investimenti, per quello che riguarda il modo di concepire la nascita e la realizzazione, soprattutto la manutenzione e fiducia in un portafoglio di investimento e allora ho messo insieme queste quattro carte più un jolly, graficamente ho detto anche a un ragazzo che lavora con noi, un bravo grafico, di provare a immaginare queste quattro assi più il poker, però ho detto è troppo incasinato con tutte queste persone e ha fatto questa immagine e poi ci ho messo qualche parola in inglese perché se no qua ormai in Italia non è considerato una roba credibile e seria se non ci mescoli un po' di parole inglese e a ciascuno ho associato come vedete il motivo per cui queste persone secondo me possono essere utili, per me che faccio questo mestiere, ma per voi come risparmiatori e investitori, perché ci hanno dato delle le lezioni, ci dicono delle cose che sono molto importanti almeno per me lo sono state e lo continuano a essere perché più che avere la ricetta del portafoglio vincente e magari avremo anche tempo in questa oretta di parlare di portafogli vincenti e non vincenti, quello che ho imparato negli anni è che è importante avere delle fonti di ispirazioni su cui puoi migliorare poi la tua gestione del tuo portafoglio, il cosiddetto money management, capire alcuni aspetti positivi e negativi sia di te stesso poi nel caso che tu facci il consulente finanziario anche come rapportarti con i tuoi clienti, capire cosa è possibile e non è impossibile, non è detto che magari la stessa ricetta seguita da me, seguita da un altro può ottenere risultati completamente diversi ed è pieno il mondo degli investimenti e quindi ho provato a dividerli attraverso questi cinque blocchi di cui adesso poi avremo tempo per ciascuno di raccontare perché sono secondo me importanti in ciascuno di questi blocchi che sono value e formone, cioè l'attenzione del cosiddetto value investing, cioè investire cercando il valore in ciò che si investe e si conosce, strategie invece momentum, quindi legate anche alla forza dei mercati, quindi anche la capacità di andare a fare quello che alcuni dicono che non serve a nulla, altri invece dicono che è tutto, il cosiddetto market timing attraverso delle strategie e poi l'ho messo al terzo punto, potevo metterne molti altri naturalmente ho dovuto anche un po' guardare l'agendina e non mettere tutti i nomi che avevo dentro, Ray Dalio per quello che riguarda i cosiddetti quelli che adesso chiamano i portafogli pigri, i lazy portfolio che è anche un approccio, anche quello molto interessante, però non potevo dimenticare altri due aspetti che secondo me un investitore o un risparmiatore deve valutare che sono il self control, cioè la capacità poi di essere capaci sui mercati di resistere, di esistere, di confrontarsi con i saliscendi, le vittorie e soprattutto le perdite, quindi qui c'è tutti questi tre personaggi tra cui ho voluto anche citare un italiano che sono alcuni, hanno anche ottenuto un premio Nobel per l'economia, penso a Schiller, Kahneman e l'italiano Legrenzi, adesso oggi professore merito alla CA Foscari di Venezia, che hanno dimostrato con esperimenti anche di neuroscienze come il nostro cervello di investitori ha dei difetti, come dice Legrenzi, di software molto forti che ci fanno fare molti errori quando investiamo. E per ultimo, ma non come dicono gli americani, ma non perché l'ultimo, ho messo John Bogle che è una storia molto bella di un investitore che poi ha fondato una delle società più importanti oggi nel mondo degli investimenti che si chiama Vanguard, che anche in Italia è arrivata e fanno gli ETF come altri, ma sono di fatto quasi considerati lui il papà degli ETF, che ha dato delle lezioni che per chi anche fa consulenza indipendente, parla con i risparmiatori o se uno è il risparmiatore deve conoscere assolutamente quello che dice John Bogle, che è l'aspetto dei costi, che sono l'unica cosa certa che ci capiterà nella nostra vita di investitori che avremo sempre, i rendimenti non li possiamo prevedere, i costi ci saranno. Quindi per questo mi sembravano cinque punti di vista, in cui nel mio caso ho cercato poi attraverso questi cinque punti di vista di ragionare, anche li utilizzo in modo diverso per quello che riguarda la mia attività di consulenza, ecco qua per chi non mi conoscesse, però oramai conosciamo tutti, anche abito in un paese, l'erice, anche se io non conosco le persone, le persone conoscono me, basta che tu conosci qualcuno di una persona, vai su Google e sai tutto di tutti, oramai siamo diventati tutti tonponzi come c'era 20-30 anni fa l'investigatore, comunque siamo Salvatore Gazziano, sono diciamo l'amministratore e cofondatore di questa società di consulenza finanziaria indipendente, iscritta anche all'albo dei consulenti, quindi possiamo fornire anche consulenza personalizzata, non deteniamo soldi dei clienti e abbiamo creduto, tra l'altro fra poche settimane, l'11 ottobre, festeggeriamo 20 anni dalla nascita di questa società e per me è una bella soddisfazione anche perché 20 anni fa quando ho fondato Soldi Expert con quella che poi è diventata anche mia moglie, tutti ci avevano predetto che non avremmo resistito, diceva figurati se la gente in Italia ti pagherà mai la parcella per la consulenza, preferiscono non pagare nulla e pagare tre volte di più attraverso la tosatura, non delle monete come facevano gli antichi romani, ma attraverso i fondi, i certificati da cui trae l'infa, il sistema bancario di risparmio gestito e poi figurati se tu i clienti li troverete, li conoscerete attraverso il web, la rete, gli algoritmi, ci davano, ci predivano poche settimane o mesi di vita, siamo arrivati a 20 anni e oggi la nostra società sta dandoci da diversi anni dante soddisfazioni, anche perché poi sapete che l'Italia è un paese strano, quella roba che sembrava una roba da sfigati, poi sono arrivati gli americani e hanno detto che loro facevano robotisering ed è quello che sembrava una roba da sfigati diventata una roba ganza, anche se noi l'abbiamo diciamo fatta a nostro modo a differenza di alcune di queste società che sapete che hanno dei capitali di venture capital dietro. Allora partiamo un poco, ecco questo alcuni mi hanno anche ringraziato perché la ricevono letterasettimanale.it o letterasoldiesper.com è un po' un mio diario un po' a volte irriverente e non convenzionale su quello che accade sui mercati, su idee di investimento, su strategie, se volete poi registrarvi diciamo manterremo un filo avanti. Partiamo dai primi tre che ho messo, value for money, cioè Peter Lynch, Benjamin Graham e Warren Buffett, tra l'altro ho visto che nella libreria che c'è gestita da Epli ci sono alcuni libri fra cui proprio il caposaldo di Benjamin Graham sull'investitore intelligente. Cos'è che caratterizza queste persone? Alcune li conoscete tutti, Warren Buffett che fino a poco tempo fa era considerato l'uomo più ricco del mondo, poi è diventato il secondo dietro Bill Gates e adesso è stato sopravvanzato diciamo dai nuovi fra cui sicuramente Elon Musk che ormai viene accreditato di 200 miliardi di dollari di patrimonio, considerando naturalmente il valore delle partecipazioni quotate, sono diciamo dei gestori vecchi a scuola, degli investitori vecchi a scuola ma che ci ricordano un po' i fondamentali, cioè che cosa significa investire. Benjamin Graham, questa è una delle frasi che mette all'inizio del suo libro rosso che tra l'altro è bello che in Italia dopo 20, 30, 40 anni è stato finalmente tradotto ed è una fonte di riflessioni molto utili anche perché è stato tradotto anche con tutta una serie di glosse che fanno capire come i mercati e anche lo stesso pensiero di Benjamin Graham nel tempo si è evoluto e quindi anche questo ci dice una cosa che talvolta può sembrare un po' difficile per noi investitori che anche quelli che dicono che bisogna guardare i fondamentali nel tempo guardano dei fondamentali un po' diversi, vanno a cambiare un pochino delle loro ricette, quindi le strategie per sempre, lo vedremo anche con altri casi, forever, cioè non esistono, ma anche i trading system anni e anni fa, magari alcuni lo conoscono con Emilio Tommasini di Lombard Report, parlavamo di questo argomento, anche lui è molto specializzato soprattutto su quella parte e mi diceva che anche gli algoritmi, quelli vincenti e poi alla fine prima o poi hanno la loro periodo di decadenza e talvolta non ritornano più buoni, quindi questo fenomeno esiste anche fra gli investitori cosiddetti dell'analisi fondamentale. Però quello che diceva Benjamin Graham è che attraverso un'analisi approfondita, questa parola dell'analisi approfondita la vedremo anche con Peter Lynch, l'investimento permette la sicurezza del capitale e un rendimento adeguato, tutte le operazioni che non soddisfano tali requisiti sono speculative. Qua capite che c'è già un mondo, uno spartiacco è molto forte, sicuramente se oggi fosse vivo Benjamin Graham difficilmente considererebbe il mondo delle criptovalute un'operazione di investimento. Quello che riguarda l'approccio di investitori come Benjamin Graham, come Peter Lynch o come altri gestori di questo tipo è che tu devi conoscere molto bene quello su cui investi, se addirittura alcuni di loro, alcune citazioni ci dicono proprio che se tu non sei capace di spiegare nemmeno a tua madre o addirittura c'era una battuta in un film anche al tuo golden retriever, cosa stai facendo e perché sei investito su quella cosa non dovresti nemmeno investire, ma l'importanza proprio di andare a selezionare società conoscendo molto bene il mercato, le prospettive, ma anche loro nella loro analisi, se voi avete letto e avete approfondito o approfondirete, anche capire quali sono i limiti di un investitore, per esempio Peter Lynch una delle cose che diceva è che investire significa molto importante approfondire perché è come altrimenti giocare a poker senza giocare alle carte, senza conoscere le carte che uno ha davanti e purtroppo molto spesso nella storia dei mercati finanziari, io ho iniziato a metà degli anni 80, esistono fasi di mercato bullish come si dice, in cui molti pensano che è facile, si guadagna facilmente, ci sono periodi in cui tutto sembra possibile, persone che pensano di mollare il proprio lavoro e ottengono dei rendimenti pazzeschi e quindi pensano che investire sia una passeggiata, invece in realtà non lo è e alcune di queste frasi che state leggendo sono molto forti, per esempio quelle persone che hanno successo nel mercato azionario accettano periodicamente delle perdite, è qualcosa che in questo, ha scritto due libri, Beating Wall Street, Onsup, e quello che dice Peter Lynch è che un grande investitore è già un investitore che riesce a fare 6 operazioni buone su 10, non lo dice un trader, lo dice un grande investitore diciamo più legato al mondo dell'analisi fondamentale, ricordiamo che Peter Lynch, Benjamin Graham sapete è stato, l'abbiamo citato poco fa, è stato considerato un po' il papà spirituale di Warren Buffett a cui lui si è ispirato, era un professore, aveva aperto la sua diciamo bottega e aveva dimostrato che questo approccio di essere molto analitico, andare a cercare società, andarsi a vedere i bilanci, i flussi previsti, tutte cose che poi in realtà magari uno guarda solo l'ultimo miglio, i ticker che salgono e scendono diventano rossi e verdi, ma in realtà nel lungo periodo i mercati quello che esprimono, anche se ci sono dei periodi in cui quello che modifica la percezione degli investitori, quelli che sono ottimisti e pessimisti, a volte è quello che genera più ritorno nel capitale, ma nel medio e lungo termine, cioè quello che poi è la vita di noi investitori, che non è quella di guadagnare solo 2-3 anni, perché poi se guadagniamo 2-3 anni e prendiamo un meno 80, meno 70 e molti nostri connazionali lo hanno preso in questi anni in alcuni mercati, compreso quello italiano, quello che importa è la persistenza e la persistenza, i risultati li hai se poi le aziende su cui hai investito o gli indici, poi ne parleremo quando parleremo di John Bogle, hanno prodotto dei rendimenti, quelle aziende sono cresciute come fatturato, come utili, come margini e quindi diceva che è importante sapere anche, e qui introducevano già loro, tutto un aspetto della cosiddetta finanza comportamentale, cioè non è facile poi sapere stare al tavolo quando si perde e le perdite esistono per tutti, sono esistite per Peter Lynch che è stato fra uno dei più grandi gestori americani negli anni 60, gestiva questo fondo Fidelity Magellan che ha portato da poche decine di milioni di Euro quando l'ha lasciato, ha avuto anche la capacità di mollarlo, nel senso che ha deciso di non fare più il gestore quando raccoglieva 13-14 miliardi di dollari di masse, quel fondo aveva ottenuto dei rendimenti quasi di molti punti, anche 6-7 punti percentuali maggiori dell'andamento del mercato sottostante, quindi dell'azionario americano e l'aveva raggiunti grazie proprio alla sua capacità di andare a individuare società quotate, sottovalutate e soprattutto anche società medio-piccole, small cap, magari anche questo è un aspetto molto interessante che c'è anche in parte in alcune analisi che sono state fatte in questi anni anche legate ai cosiddetti portafogli lesi, perché le small cap cosa ci dicono anche per chi conosce un po' questo mercato, quello italiano ma anche quello mondiale, sono un asset class che Peter Lynch ha fatto vedere che poteva portare extra performance pazzesche, c'è una parola che quando l'ho letto la prima volta 15-20 anche più anni fa diceva che esistono questi titoli, li chiamava 10 baggers, come avete capito anche il mio inglese non è granché, però 10 baggers vuol dire titoli che salgono più di 10 volte, tu dici no non è possibile, cioè se tu riesci a individuare, lui è riuscito nella sua carriera a individuare alcune di queste società, naturalmente è più facile individuare società che moltiplicano per 10 il proprio valore fra le small cap che fra società molto grandi e sono quelle che ti fanno l'extra performance e qui si apre poi tutto un discorso perché torna sempre anche qui però l'aspetto psicologico, io facendo questo mestiere in tanti anni capita che spesso magari un cliente gli consiglia un titolo e fa più 20, più 30, più 40, noi stessi, anch'io e poi ti viene la tentazione di chiudere quell'operazione perché dici ho guadagnato abbastanza, aspetto che scenda e passo a un'altra, invece spesso le extra performance di grandi gestori e anche magari di molti di voi sono fatte magari da tante operazioni chiusi in perdita, anche qualsiasi, io ho lavorato per anni, sono stato forse casualmente fra i primi a occuparmi anche di analisi tecnica a metà degli anni 80 quando nell'85-86 Equis software rilasciava Metastock che allora in Italia veniva considerato roba da sciamani, l'analisi tecnica quantitativa mentre invece oggi è più che sdoganata e questo approccio di questi investitori è proprio anche quello di farti capire che puoi sbagliare, lo sbaglio può essere nel gioco, anche Warren Buffett ha fatto delle operazioni disastrose su alcune società che ha acquistato, penso anche IBM un po' di anni fa e anche di alcune importanti banche di cui è entrato e uscito. La capacità è quella di restare nel tavolo e avere anche delle strategie è un modello diciamo robusto e quindi alcune di queste frasi, visto che abbiamo un'ora ho pensato che dovevo cercare di un po' di condensare e darvi alcuni stimoli per chi voleva e ringrazio che non immaginavo che ci fossero anche così tante persone, vedete anche la prima frase di segreto non è imparare a fidare dei tuoi istinti ma piuttosto disciplinarti per ignorarti, tutte frasi che ci fanno proprio vedere anche quello che poi vedremo dopo nella finanza comportamentale dove c'è sicuramente una parte di hardware ma il software, la nostra mente è spesso molto importante per quello che riguarda il modo di investire. Tra l'altro Peter Lynch è molto interessante anche un altro aspetto che è bene che noi teniamo conto da investitori, per esempio il fondo di Peter Lynch che ha lasciato diciamo con un patrimonio incredibile con 5 stelle e tutto, quando poi lui è andato via pian piano quel fondo ha iniziato sempre più a ottenere rendimenti invece peggiori del mercato, le sue masse sono scese sempre più e questo ci introduce a un altro tema che adesso possiamo toccare solo marginalmente come dobbiamo però farne tesoro e tra il volto spesso è un argomento su cui anche i consulenti finanziari seri ne hanno sempre più coscienza anche in Italia e che la persistenza delle performance anche dei mega gestori, i money manager dei fondi, alcuni dicono io mi faccio un portafoglio e seleziono i fondi migliori del mercato che hanno 5 stelle, 4 stelle, sto gestore o le banche tendono spesso a andare dai risparmiatori e ti fanno ti faccio sto portafoglio e sto portafoglio cosa fanno? Prendono i fondi migliori dell'ultimo anno che naturalmente non avevano consegnato l'anno prima ma nella maggior parte dei casi ai loro risparmiatori e creano questo effetto specchio diciamo pure per le allodole in senso bonario. La realtà e poi lo vedremo con John Bogle, il papà degli ETF se vogliamo chiamarlo così è che la persistenza anche dei più grandi gestori anche se sono state fatte delle analisi sui cosiddetti fondi che offrono extra performance nel tempo si riduce in maniera drastica cioè spesso solo quelli che erano 5 stelle, 4 stelle dopo 3-4 anni non lo sono più, dopo 8-10 anni sono fra addirittura potrebbero essere passati molto facilmente sui peggiori del mercato. Però qui sapete che vi è un'industria quella del risparmio gestito che trae il suo aggiovamento dalle commissioni applicate sui fondi quindi devono sempre creare anche tutto questo mondo del gestore che sa, conosce i mercati, fa però poi se siete delle persone che guardano non solo le parole ai fatti noi abbiamo provato a farlo se volete anche esercitarvi anche se naturalmente non è un tentativo che può riuscire al 100% per alcuni problemi tecnici abbiamo creato anche all'interno di Soldi Expert, una sezione che si chiama Fund Rating, ci si arriva attraverso comunque il sito Soldi Expert, lo leggete che si chiama Fund Rating ma credo che il dominio sia fondiexpert.it in cui abbiamo preso tutti i fondi che potevamo sulla classe retail per investitori tipo 14.000 fondi e abbiamo fatto una cosa che apparentemente ora che ve lo racconto dite no non ci credo, almeno io quando la prima volta l'ho capita non ci credevo, mi era capitato di partecipare a delle presentazioni di fondi in cui i gestori venivano promiati, ah guardi qua, guardi là, 5 stelle e poi andavo a casa, prevevo il computer quando non c'era, confrontavo l'andamento del fondo con il suo benchmark e oggi è molto più facile perché tu puoi confrontarlo con il suo etf e l'etf era molto meglio, per effetto di due variabili che poi vedremo ancora meglio con John Bogle, i costi perché un fondo magari applica il 2-3% di costo all'anno e per il fatto che spesso questi costi nel tempo vanno a dei primi rendimenti e che tutto questo gestore che ti racconta che lui c'ha una visione bottom up, c'hanno tutti i corrispondenti in giro per il mondo, sembrano che d'oro sappiano tutti, nel 85% dei casi se qualche ragazzo fa delle tesi di laurea basta che si vada a studiare spiva, lo prova su internet e fanno proprio uno scorecard di tutti i fondi che abbattono il mercato, alla fine bruciano soldi, fanno peggio del mercato, quindi noi abbiamo preso ciascun fondo, l'abbiamo confrontato con il suo benchmark di categoria e abbiamo verificato, ciascuno può vedere questo, abbiamo messo un voto da 1 a 10 perché io sono ancora del sistema della riforma gentile quando si davano i voti numerici e la maggior parte dei fondi in Italia 4 e 5, anche i fondi più venduti in Italia, mi ha chiamato settimana scorso un giornalista che sta facendo un articolo sui PIR, prendete il fondo PIR più collocato in Italia, sono due, Mediolanum flessibile e Mediolanum futuro, il futuro se lo stanno facendo loro sui risparmiatori che stanno collocando quel fondo, hanno rispetto al benchmark, se uno avesse investito direttamente sul PIR che investe su quelle categorie anche con la parte obbligazionaria perché poi si inventano tutte le categorie particolari, 20-30 punti in pochi anni, cioè delle cifre veramente pazzesche che servono a pagare il banco, però questo ci dice molto dell'industria del risparmio gestito e ci dice molto perché queste persone, anche Warren Buffett, sembrano delle persone strasagge perché poi agiscono con il buon senso, su Warren Buffett non mi dilungo molto perché è forse il personaggio più conosciuto ed è anche quello su cui bene o male è entrato quasi a far parte, mi ricordo un po' il vecchietto di Up, non so se ve lo ricordate quel film della Walt Disney bellissimo che c'era questa casa con i palloncini che volava in aria, gli altri due magari non tutti li conoscono, in particolare Robert Levi ho anche faticato molto a trovare questa foto, in realtà è difficile dargli un nome a chi ha dato un, si può dire che è il numero, l'iniziatore di questa corrente, comunque lui negli anni 60, credo nel 67, Robert Levi insieme a Charles Kirkpatrick scrissero uno studio pubblicato sul Journal of Finance, quindi una rivista diciamo ufficiale all'epoca, in cui analizzò il mercato azionario americano e dimostrò che una strategia basata sulla forza relativa, poi faremo un piccolo esempio che potrete vedere dopo, quindi andando a selezionare un portafoglio dove tu periodicamente cambi diciamo i cavalli e metti sempre i cavalli più forti, quelli che negli ultimi sei mesi sono andati meglio e fai uscire quegli altri, fai una rotazione del genere, strategie di questo tipo ha dimostrato che nel tempo ottengono risultati migliori rispetto a una strategia puramente passiva, una sorta di distorsione del mercato, una sorta di anomalia, questa anomalia in realtà poi anche è stata sviluppata, l'ho detto Robert Levi perché lui ha pubblicato su una pubblicazione scientifica, ma in realtà ne avevo scritto tanti anni fa in un libro e anche ebook che è anche scaricabile, credo gratuitamente che si intitolava Guadagnere in borsa e questione di forza su soldiesper.com e raccontava un po' tutta la storia delle strategie basate sulla forza relativa, già ci sono addirittura chi vede in fine 800, 900, Jesse Livermore anni 30 utilizzavano in parte strategie di questo tipo piuttosto che altri analisti, investitori e gestori e Kenneth French l'ho messo anche perché lui è un professore universitario, oggi lavora credo professore, sono tutti emeriti in Italia e anche negli Stati Uniti alla Daymove University, ha comunque insieme French fama, quindi persone comunque anche che frequentano l'ambito dei Nobel dell'economia e ne sono stati insigniti, hanno proprio anche dimostrato che questa anomalia, questa persistenza, ho trovato un grafico abbastanza semplice anche per parlarne velocemente, il concetto è qua ci sono, vedete tanti pallini colorati, un titolo è salito il 3, l'altro il meno 3, l'altro 0, più 1, più 7, una selezione di questo tipo va a prendere per esempio semplicemente i tre che sono saliti di più, quindi in questo caso quelli che erano saliti del 6, del 7, l'altro non si legge nemmeno bene, però quelli che erano saliti di più e fa un portafoglio con quei tre, ogni mese, ogni due mesi, ogni sei mesi rifà il paniere con questo criterio, quindi sostituisce i cavalli, diciamo quelli che corrono di più, facendo uscire quelli che sono corsi meno. Una strategia di questo tipo, e c'è anche un librone che in Italia nessuno ha avuto mai il coraggio di tradurre, che si chiama What Wars on Wall Street, che è molto interessante perché è un librone di 900 pagine che praticamente analizza tutte le strategie di investimento classiche, cioè selezioniamo le società in base ai dividendi, in base al price earning, in base alla forza relativa, in base a mille criteri diversi, questa strategia anche su periodi lunghissimi dal 1927 in poi, quindi interessante anche perché compreso il crollo del 29, ha ottenuto in realtà un piccolo premio rispetto a un portafoglio puramente passivo. Per me questo è stato anche spunto negli anni passati di utilizzare e utilizzo anche in parte su diversi nostri portafogli strategie legate al momentum. Come capite sto anche un po' in realtà svelando alcune delle ispirazioni da cui le ho prese e perché le ho prese, perché è una strategia comunque che può avere dei vantaggi e anche ha degli svantaggi naturalmente come vedremo. Qua per esempio vi ho fatto vedere un grafico di una strategia momentum, tra l'altro la cosa è anche interessante, anche se sono delle strategie in questo momento molto, come si può dire, semplificate, molto semplificate, però esistono anche degli ETF che replicano strategie momentum, quotate negli Stati Uniti con più lungo periodo storico, con più track record, quindi ho voluto mettere un grafico a confronto di una strategia momentum molto semplice, quasi stupida, però che comunque ha un ETF rappresentato con l'indice azione americana. Come potete vedere, potevo scegliere una strategia a forza relativa, ce ne sono alcune che hanno fatto dei numeri pazzeschi, però ho fatto su un prodotto di larga quotazione esistente sul mercato. Come potete vedere un piccolo vantaggio nel caso di un prodotto che addirittura è disponibile anche sul mercato, una strategia di questo tipo, naturalmente nel mio caso le costruiamo noi attraverso dei singoli portafogli, non solo di ETF ma anche di singoli azioni all'interno dei portafogli, però dà l'idea che può essere interessante, perché qual è il vantaggio di operare con strategie basate sul momentum, sulla forza relativa, sulla cosiddetta relative strength, se cercate su Google altre strategie, hanno pubblicato negli ultimi 10-15 anni una marea di studi, strategie, il mondo poi, il bello della rete, di Google, che trovi proprio anche le formule quasi, poi naturalmente uno deve farsi analizzare, il mio mestiere è anche quello che grazie al fatto di fare questa società, di avere un ufficio studi in cui poi le controanalizzi, fai dei backtesting, vedi di capire, soprattutto se poi sono adeguabili a un risparmiatore tranquillo, come utilizzarlo all'interno della propria strategia. Queste strategie nel tempo sono interessanti e tra l'altro mi ha molto colpito rileggendo un'analisi che aveva fatto appunto Kenneth French in cui aveva individuato questo vantaggio, però aveva detto una cosa che però anche qua ci riporta un po' un tema che ho messo prima, cioè che lui aveva analizzato che erano molto interessanti, però aveva detto su periodi di tempo anche superiori ai 14 anni e purtroppo qua torniamo a noi investitori che 14 anni, cazzo qua già se fra 2-6 minuti ci viene fuori che Wall Street perde il 4%, oggi andiamo in angoscia, abbiamo bisogno dello zucchero per ritornare, e qui torniamo un po', forse questo è il mio campo, più dell'investing che del trading perché mi rivolgo a questo e qui c'è sempre un aspetto comportamentale non facile per molte persone su cui misurarsi, ma che invece nella mia esperienza è un'esperienza positiva, ha quello che ci dicono un po' tutta questa carrellata di personaggi anche con idee talvolta come vedrete completamente contrapposte, perché a volte se andiamo a prendere French e Robert Levy e le andiamo a confrontare con John Bogle dicono delle cose in realtà completamente opposte, però secondo me piace, se fossimo a X Factor fare il mash up, mescolare le cose e trovare un punto di unione, però è interessante perché quello che impari almeno nella mia carriera prima di consulente e di investitore è che talvolta devi cercare di ottenere anche un piccolo vantaggio nel tempo ti può fare ottenere dei risultati sensazionali, l'altra settimana mi ha chiamato un mio caro amico che si è trasferito in Thailandia e ha suo figlio che è un campione di Muay Thai, non so se la conoscete questa disciplina in cui combattono a mani nude, con i piedi e le mani e anche lui un pochino come tanti ragazzi attratto dal trading online, vuol fare tutto, a parte che aveva un combattimento il 3 di questo mese a Bangkok e tra l'altro è una storia incredibile, un italiano che nel ranking mondiale ha vinto una cintura nella Muay Thai come se noi vincessimo un premio di aprire un ristorante cinese a Pechino, quindi veramente una bella storia di motivazione visto che sono partiti da Torino tanti anni fa e a parte che gli dicevo che uno che deve fare e combattere la psicologia giusta per investire e fare trading talvolta non ce l'hai, se ti becchi delle botte nella notte che fai l'overnight qualcosa ti gira contro, però gli ho detto magari questa roba alcuni potrebbe urtare un poco, ma se io gli ho detto io e te e Roberto che eravamo ragazzi, avevamo fatto la scuola insieme e abbiamo iniziato a lavorare insieme nell'85-86, se qualcuno ci avesse detto nell'85-86 tutto quello che investi metti da parte, non farai mai trading ma lo metti investito con strategie molto semplici sull'azionario mondiale, allora non c'erano gli ETF o strategie molto meno rutilanti del fare del trading, io sono sicuro e ne sono convinto anche ora, nemmeno lo 0,1% della maggior parte dei trader avrebbe lo stesso patrimonio, cioè nel tempo, il problema è il tempo, perché il tempo Kronos era il dio greco ma anche che ha divorato i suoi figli e quindi divorano i stessi il tempo, ma il tempo nel mondo degli investimenti è molto importante perché a 5 anni come a un anno che tu ti possa prendere un meno 50 se stiamo esagerando ma però diamo i numeri veri, non diamo la volatilità, il VAR che raccontano le banche che serve per forzare i profili e metterli più azionari perché così guadagnano più commissioni, noi abbiamo visto nella nostra vita, vedo l'età media di voi, che perdere il 50% sull'azionario può succedere anche nell'arco di 7, 8, 12 mesi, non l'abbiamo visto con diverse crisi, quindi dobbiamo essere preparati a questo e capire quanto possiamo prenderci di questo rischio e anche sull'obbligazionario dobbiamo prenderci un determinato rischio, però sappiamo anche, se vogliamo vedere la parte statistica, che è dagli anni 70 in poi, quindi abbiamo un campione di 50 anni che praticamente su strategie molto semplici, bilanciate, azionario, obbligazionario, una spolverata di materie prime, poi se la possiamo migliorare con tutte queste piccole migliorative avremo sempre ottenuto un rendimento positivo tranne forse nel 71, nel decennio successivo, quindi poi uno deve provare, c'è anche la parte discrezionale o ludica in cui vuole comprare, vendere, fare trading, però se mi permettete nel tempo uno deve vedere quali sono le strategie che non vanno. Quindi qua le strategie momento, ecco qua ne ho messo una di una strategia che da tempo abbiamo implementato e seguiamo rispetto a un portfoglio, qua attraverso questo spostarsi su parte del portafoglio diciamo sulle cose più trendy, più cool, però a me piace essere sempre obiettivo e anche perché poi nei mercati devi diventare obiettivo perché se tu non puoi mentire a te stesso perché tu apri un conto, guardi i conti dei tuoi clienti e vedi quello che funziona e non funziona nel tempo. Le strategie basate su un momento, un forza relativa, come qualsiasi strategia hanno i loro difetti, i loro difetti possono essere che naturalmente i loro pregi che possono anche abbassare il drawdown, nel mio caso per esempio nel 2007-2008 alcune strategie che avevo implementato attraverso questi meccanismi hanno permesso di diminuire molto l'esposizione, quindi diminuisci l'investito e quindi prendi non il drawdown del 50, magari lo prendi solo del 20-30, parlo di numeri reali perché poi uno può raccontare tanti numeri, però quelli sono i numeri, cioè sei già un super, se riesci a fare questa roba, poi ci sono anche delle controindicazioni, naturalmente però come ho anticipato prima queste strategie non è che vincono sempre, infatti se vedete il grafico che vi ho fatto vedere prima e se notate il confronto dell'azzurro con il blu, vedete che per esempio negli ultimi anni l'SP500, quindi una strategia come dicono nel mondo delle obbligazioni vaniglia, sapete che sono le obbligazioni vaniglia, vanili bond, le chiamano così perché è semplicissime, c'è una strategia di non far nulla, risplicare il mercato, quando i mercati salgono e questo l'avrete capito e provato sulla vostra pelle, cioè se tu hai le azioni, non fai nulla, ottieni migliori risultati, poi ci sono però degli anni in cui questa strategia ti brucia denaro, quindi non sempre queste strategie, quindi è bene capire, almeno io l'ho capito, poi ognuno magari spero, mi auguro che trovi una strategia diversa, però le strategie che funzionano forever, forse ho messo anche qualche esempio, è difficile che esista, infatti nel mio modello di asset allocation, di quello che cerco di fare con i portafogli, nella nostra consulenza come soldi expert è quello proprio, sono arrivato dopo molti anni, già da 6-7 anni a costituire portafogli al di là che diversificati per strumenti ma anche per strategie, perché non esiste una strategia sempre che vale per tutti i mercati, per tutte le stagioni, questa per esempio è una strategia basata sulla forza relativa che usiamo sull'azione europeo che ci fa scegliere che sia su un paniere di 40-50 titoli a marzo-aprile quando avevamo fatto questa cosa, erano venuti fuori 4 titoli tutto sommato abbastanza legati al Mondovallo, Volkswagen, Banco di Bilbao, però permette di ottenere rendimenti, track record come questi, però poi delle botte, come vedete quella bella discesa è stato il famoso periodo della pandemia e poi uno deve anche sapere che naturalmente quando anche ieri ne parlavo con un potenziale cliente che veniva a trovarmi qui a Roma, cioè anche quando dice metto uno stop loss, scattano i segnali, sì tu scattano i segnali, ma poi può succedere che naturalmente quando riscattano i long rientri più alto e poi riscattano di nuovo e rientri più basso, cioè è un mondo complesso, questo ci fa capire perché poi lo vedremo nella finanza comportamentale, il nostro cervello fatica a mettere insieme tutte queste cose e passiamo invece a un aspetto un po' diverso da quello che vi ho raccontato che è Ray Dalio, magari ne avete sentito parlare, è a capo di Bridgewater, considerato uno dei fondi edge più importanti al mondo, che ha ottenuto negli anni dei rendimenti notevoli, tra l'altro ha scritto diversi libri, forse anche pubblicati da Epli, può darsi che sono Epli ormai diventato un po' il leader nel settore finanziario, sì, si ha pubblicato anche lui in Italia per Epli e fa strategie di vario tipo, è molto interessante i suoi libri anche sulla sua biografia, su queste biografie americane di quelli che riescono ad ottenere risultati pazzeschi, però fra tutte le strategie ha raccontato anni fa che ha creato questo portafoglio cosiddetto all season, all where, facciamo finta di fare gli americani a Roma come Alberto Sordi, come faccio io con questo inglese, è arrivata una conclusione anni fa interessante, che è comunque anche questa, è una strategia anche questa tutto sommato interessante, che ha avuto e sta avendo anche, non solo nei confronti della sua, ma di tutte quelle, che ce ne sono tantissime, che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi anni, dei cosiddetti portafogli o lesi pigri, portafogli composti diciamo da asset messi insieme, come dei cocktail a proposito del fatto che sto bevendo, dei cocktail che so io, in cui tu mescoli che sia un po' di azionario, un po' di obbligazionario, un po' di obbligazione breve, un po' di lungo, un po' di mondiale, un po' di americano, un po' di oro, un po' di commodity e Ray Dalio cosa ha analizzato tanti anni fa? Che in realtà ciascuno di questi asset, lo vedete nel cerchio rosso, ha normalmente un suo andamento migliore in determinate fasi dell'economia, le lancette dei mercati quando c'è recessione, inflazione, depressione, ci sono degli asset che si comportano meglio in certe fasi e altri in un altro. Con grande sincerità, anche modestia, anche se poi molto modesto non lo è, ha concepito questo portafoglio con questa considerazione, che tanto noi non possiamo sapere quali saranno, come diceva nella Genesi, sette anni di vacche grasse e sette anni di vacche magre, perché se sapessimo quali sono, naturalmente andremo a investire solo sugli asset, sui titoli, sui mercati, sui comparti che vanno meglio. Lui ha fatto quest'analisi e ha detto che la maggior parte degli investitori, compreso quelli professionali, spesso non lo sa assolutamente e se frequentate questo mondo da un bel po' di anni e leggete tanti libri, articoli, previsioni, economisti, guru, ci ho scritto tantissimo, vedete che la maggior parte delle previsioni che vengono formulate in realtà sono carta straccia, ogni anno riceviamo, leggiamo gli outlook, cosa succederà il prossimo anno, normalmente sono quasi carta straccia, torniamo all'argomento di prima, servono anche a far cinema, chi lavora nel settore, io ho lavorato anche per anni nei giornali, poi lo capisci, nel senso che devi comunque far capire al risparmiatore che tu affidi della gente, dei soldi, a persone che ne sanno di più, invece Ray Dalio con questa strategia che aveva lanciato ha detto noi non ne sappiamo di più, quindi proprio perché non ne sappiamo più, non sappiamo se il prossimo anno l'inflazione valerà o piuttosto che scenderà, cerchiamo di creare un portafoglio che possa resistere nel tempo, che abbia determinate componenti che magari quella che funziona bene in un anno non funziona bene nell'altra ma viene compensata, quindi in base a tutto questo ha creato un portafoglio, questo è come è composto il suo portafoglio base, anche se negli ultimi anni e mezzo o due è entrato un po' in crisi, anche lui psicologicamente ha iniziato a smontare alcune delle sue idee forti all'interno di questo portafoglio, in particolare la parte dell'obbligazione a lungo termine, però se voi andate a prendere questo portafoglio, trovate tantissimi simulatori o tantissimi, composto semplicemente da 30% azionario USA, 40% obbligazione a lungo termine, 15% obbligazioni long term, 7,5% di materie prima, 7,5% di oro, andate a vedere questo portafoglio e vedrete che forse in Italia negli ultimi 10, 20 anni, 30 anni non c'è quasi gestore che ha ottenuto migliori risultati di un portafoglio così stupido, nonostante una quota di obbligazione era molto alta. Sulla onda del successo di questo portafoglio, ne avrete sentito magari parlare anche altri, un altro famoso anni fa era il permanent portafoglio fatto da 4 asset, fra cui l'oro addirittura al 25% azionario, sono nati tutta una serie di portafogli, ecco vi faccio vedere alcune statistiche interessanti di questo portafoglio, per esempio questo e questo portafoglio, su un sito americano hanno fatto vedere se uno avesse detenuto questo portafoglio periodi decennali, cosa sarebbe successo? Quello che viene fuori è che questo portafoglio avrebbe reso mediamente un 5,5-5,6 a memoria all'anno, parliamo di rendimenti lordi, e solo un anno, vedete quello rosso, quello che dicevo prima, avrebbe avuto un decennio negativo, ma la capacità di questo portafoglio di attraversare 50 anni, io sono nato nel 64, però dagli anni 70 in poi mi ricordo veramente che abbiamo attraversato di tutto, all'epoca abitavo a Torino, adesso che si parla dell'inflazione mi ricordo questa scena in cui c'erano le città chiuse, perché non c'era la benzina che mi hanno riportato adesso in Inghilterra, scene di questo tipo, e c'erano i cavalli alla pellerina, le persone che andavano, cioè un mondo in cui abbiamo visto di tutto, la crisi israeliana, il Kippur, abbiamo visto l'11 settembre, abbiamo visto il crollo della new economy, nonostante tutto questo, portafogli di questo tipo, ecco qual è la cosa che non ho detto, qual è la caratteristica di questi portafogli lesi, come chiamano gli americani, che ormai ci hanno imposto anche la lingua, lo diciamo a Roma che una volta imponevamo noi nel mondo tutti, usi e costumi, è quello che funzionano attraverso questi asset che vi ho fatto vedere in sintesi e poi ogni anno, un'altra cosa che è la cosa forse più importante che non vi avevo detto, vengono ribilanciati, cioè quindi se io metto il 30% di azionario nel caso di questi portafogli molto spesso loro sono americani, quindi per loro l'azionario non è nemmeno più quello mondiale, la maggior parte di questi portafogli, soprattutto azionario che usa, sale al 40%, l'anno dopo scende e ritorni al 30%, viceversa se il mercato è sceso tu dovresti ogni anno riportarlo al 30%, quindi ogni anno ricomponi questa cosa e questa cosa qui è una cosa che può avere una potenza che è controintuitiva, è molto controintuitiva, mi ha fatto notare un bravissimo consulente finanziario, peraltro non indipendente, questo lo dico anche perché non è che, anche se sono indipendente, probabilmente c'è questa guerra, che gli indipendenti si fanno la guerra a chi è migliore e non migliore, bravissimo, Fulvio mi ha fatto un esempio pazzesco, cioè tipo a 30-40 anni prendiamo l'azionario americano che ha fatto il 14% all'anno di rendimento, sto dicendo dei numeri non sono corretti e l'oro ha fatto tipo l'11%, tu dici qual è il portafoglio che avrebbe generato negli ultimi 40 anni il rendimento migliore, avrei fatto, sapendo dopo, lunedì quando c'era la schedina sapevamo i risultati, avrei messo l'azionario americano al 100%, invece colpo di scena, se tu avessi fatto un portafoglio 50% azionario e 50% oro e ogni anno avessi ribilanciato queste due componenti, quel portafoglio avrebbe ottenuto un rendimento maggiore di avere solo l'azionario americano e avresti avuto anche minore drawdown, avresti avuto minore violatilità, perché molto spesso per proprio la legge che c'è dietro alcuni di questi meccanismi, poi ormai ne sono nati tantissimi di questi portafogli, quindi io quello che faccio naturalmente non li applico tali e quali come sono, ma ho elaborato come tutti noi a volte cerchiamo di fare qualcosa che fosse adattabile all'interno diciamo delle strategie, scusate non mi posso allontanare troppo dal microfono, all'interno delle strategie che usiamo, però questo aspetto è molto importante e anche qui però il risparmiatore deve capire anche un po' queste logiche, ma che queste logiche nel tempo funzionano, perché obiettivamente anche qui torniamo un po' alla matematica, alla statistica, cioè la cosiddetta regressione verso la media, cioè qualcosa che sale, sale, sale e poi tende a tornare indietro e viceversa quello che sale e questo funziona molto bene e lo vedremo poi, anche se qua stiamo prendendoci troppo tempo e mi dispiace ma fra poco più di 10-12 minuti Big Bang a Roma dirà stop e che questo fenomeno è molto interessante perché nel tempo queste correlazioni le correlazioni funzionano, nel breve non funzionano, non l'avete visto anche lo scorso anno quando è scoppiato la pandemia e come era successo nel 2007 abbiamo visto a un certo punto che crollava il governativo, crollava l'oro, ma poi però queste correlazioni pian piano funzionano, lo scorso anno abbiamo visto l'oro che a un certo punto funzionava molto bene per 3-4 mesi, l'obbligazionario fino a pochi mesi, fino a 6 mesi fa era arrivato di nuovo ai massimi, adesso stamattina ho visto il report che mi hanno girato, se andate a vedere sapete che in Austria c'è un bond a 100 anni, hanno emesso un bond che scade dopo un secolo, naturalmente chi lo compra? Lo comprano molto spesso le compagnie di assicurazione che hanno bisogno di avere una cedola per lungo tempo, si ha perso tipo 40 punti, ma è anche vero che sapete è messo a 100, è arrivato a valere oltre 300 questo bond, proprio perché adesso c'è il fenomeno contrario, c'è una regressione anche sul mercato obbligazionario, quindi l'idea base, per questo vi ho messo Reidalio ma ce ne sono tanti di questi portafogli, ecco vi facevo vedere un'altra cosa, purtroppo voglio farvi vedere troppe cose, guardate anche questo aspetto interessante, qui c'è questo ulcer index che è un indice che hanno inventato con questo nome divertente che dice la sofferenza che proviamo quando i mercati scendono e vedete questo ulcer index 3.6, quindi più è basso meglio è naturalmente, un po' come altri indicatori, però vedete che il drawdown, cioè negli anni peggiori questo portafoglio dal 70 in poi ha fatto in questo modo meno 16%, ecco anche altro aspetto interessante, se fosse entrato uno nel periodo più sfigato, questo grafico ci dice che sarebbero passati 10 anni perché tu ritornassi al tuo capitale di nuovo dove è partito e qua ho fatto il confronto, invece se foste stati investiti solo sull'azionario USA dove naturalmente avreste avuto un rendimento molto più alto, cioè naturalmente avreste avuto il 5.6 credo che dagli anni 70 oggi un 8% l'azionario USA lo abbia fatto, avreste avuto però un drawdown del meno 49 e qui torniamo e lo vedremo se abbiamo tempo sulla parte psicologica, quanti dopo che prendono un meno 49 restano al tavolo? Quanti? Cioè quanti ne ho visti negli anni che quando c'è il 2007, 2008, quando c'è anche lo scorso anno, due anni e mezzo la pandemia ti dicono io esco poi quando è tutto più tranquillo rientro, questo cioè torniamo all'aspetto comportamentale che c'è dopo che è fondamentale e quindi vedete che è anche tra l'altro il periodo di recupero qua è addirittura 13 anni, avreste impiegato 13 anni, cosa che purtroppo sono numeri che difficilmente nell'industria anche del risparmio gestito nessuno ha il coraggio di raccontare risparmiatore, anche quando faccio i portafogli, il questionario, obiettivo lungo termine tu dici al cliente 5 anni, ma non è vero, cioè ai mercati i numeri ci dicono questo, non sono numeri come potete vedere, qui c'è un tabellone di tante di queste strategie, ci sono molti siti che offrono diciamo strategie che uno può andare a capire, però quello che volevo farvi vedere visto che c'era questa occasione è un po' la logica che ci può essere dietro alcuni di questi portafogli, la parte un po' della parte psicologica abbiamo capito che forse non è poi così stupida come sembra, perché poi alla fine tu puoi avere un'arma potentissima ma poi se ti trovi davanti a uno e devi spararli, scusate l'esempio, la metafora non molto bella e pacifista, però è un po' come una metafora di dire un conto, tu puoi essere bravissimo al poligono, puoi fare delle analisi fantastiche, dei track record, delle simulazioni, ma quando sei nel mercato c'è l'adrenalina della paura, l'adrenalina di portare a casa la pelle, che la pelle può essere anche quella economica, perché poi i soldi sono il nostro futuro, i nostri figli, il nostro tenere di vita, magari su quei soldi contiamo di prenderci una rendita per noi e quindi è molto difficile, quindi la parte psicologica è una parte che chi fa il mio mestiere, ma anche un risparmiatore deve capire quali sono i punti forti e i punti deboli, qui ho messo un po' di frasi di alcuni di questi diciamo numeri uno del settore, fra cui Daniel Kahneman, cadò 2002, premio Nobel dell'economia, ha scritto bellissimi saggi sull'argomento, anche un po' cattive a volte, è molto facile per le aziende fidate indurre in errore i clienti ingenui e le compagnie di assicurazione sulla vita sono affidabili, c'è una metafora per dire di come spesso nel mondo dei prodotti finanziari, assicurativi, ci vengono raccontate delle cose, viene fatto un determinato storytelling come si dice oggi per sfruttare i nostri errori psicologici, un errore psicologico spesso è quello per esempio delle cedole, del dividendo, questo titolo ti dà ogni anno una cedola, magari non comprendendo che quella cedola viene prelevata dal capitale, ecco 5 minuti, sembra tipo alla box, 5 minuti siamo al recupero, c'è la VAR poi controlliamo, molti di questi alla fine arrivano a delle conclusioni che tra l'altro riprendono un po' Benjamin Graham, aveva scritto questa frase negli anni 40 in cui diceva che il peggior nemico di ogni investitore è se stesso, questi ci hanno impiegato 50 anni, hanno beccato il Nobel per l'economia e poi la fine dicono questa cosa, la vera fatica come vedremo poi con il professor Legrenzi è che il nostro software, la nostra testa è stata progettata e fantastica quando noi dobbiamo, i nostri antenati dovevano cacciare, devono portare a casa la pelle, devono sopravvivere, devono procurarsi del cibo, devono procurarsi del fuoco, ma nel nostro cervello prendere decisioni di investimento non è facile, perché poi in sintesi un po' quello che dicono Kahneman piuttosto che Schiller, di cui qua ci sarebbe un addentellato molto lungo che non avremo modo di trattare, che poi il nostro cervello fondamentalmente ha un pensiero razionale e un pensiero emotivo, il pensiero emotivo è fantastico, ci sono molte cose che il nostro cervello, pensate quando guidiamo la macchina facciamo una marea di azioni senza che ormai ci sono tutte in automatica e a volte usiamo queste scorciatoie, queste euristiche viene detto anche quando investiamo e ci sembra di prendere delle decisioni sagge, ma in realtà sono delle totali minchiate, perché non prendiamo in considerazione tutte le cose che dovremmo prendere, tutti gli scenari, tutte le informazioni e tra l'altro Kahneman ha capito questo perché per anni lui era israeliano, scappato per motivi razziali, era andato a lavorare prima di insegnare a Princeton, era andato a lavorare per le forze armate israeliane e faceva la selezione e si era accorto che alcune persone che selezionava nel tempo apprendeva, come chi conosce, se conoscete qualcuno che si occupa di selezione del personale, delle cantonate pazzesche, se avete anche mai assunto delle persone, a me è capitato con degli stegisti, non è facile capire le persone, perché a volte ci affidiamo a valutazioni molto sintetiche, cose che ci sembrano simpatiche e combiniamo un sacco di guai e quindi quello che ci dicono queste persone è molto interessante perché se noi non capiamo come funziona la nostra testa e non siamo disposti a capire queste cose è molto difficile essere dei buoni investitori e anche dei buoni trader, perché poi non è che cambia molto al di là dell'orizzonte temporale in cui noi pensiamo di chiudere un'operazione riusciamo a fare. Tra l'altro una delle ultime frasi che leggete qua di Schiller, c'è sempre una bolla da qualche parte, sapete che Schiller qua avevo preparato qualche grafico che avevo fatto vedere, ecco qua queste sei punti, sette punti sono quelli che sono un po' uscito un corso, credo anche per il Corriere della Sera in cui questo era un po' il distillato del suo pensiero in cui parla appunto che le bolle esisteranno sempre, dicevo va molto di moda anche dei giornali analizzare i titoli, se siamo in un momento di bolla allora viene usato lo Schiller Ratio in cui va a fare un calcolo del price serving su decennale in cui si dice, vi faccio vedere il grafico, eccolo qua, in questo momento come potete vedere soprattutto l'azionario USA ha questo ratio che non è altro che la capitalizzazione di borsa diviso gli utili però su un periodo di 10 anni per cercare di stemperare gli eccessi e sui livelli massimi allora questo potrebbe dire che siamo in una bolla e quindi i prezzi sono troppo alti, in realtà come sapete in questo mondo è molto difficile trarre sempre delle conclusioni anche razionali perché lo stesso Schiller giustamente a un certo punto ha iniziato a fare anche dei confronti con il mercato obbligazionario e sapete che i rendimenti dell'obbligazionario se andiamo a confrontarli storicamente non sono mai stati così non bassi ma addirittura in molti casi negativi quindi non c'è molto tempo, io ho anche rilaborato un po' di mesi fa e poi ho avuto anche la soddisfazione di scoprire che anche Schiller aveva fatto qualcosa del genere e io non ho il premio, non ho mai preso un premio Nobel, di andare a calcolare i rendimenti reali e dove andare a vedere che in realtà quando i tassi di interesse sono così bassi, ho fatto un caso nei confronti per esempio della Germania che tra l'altro anche qui come potete vedere forse da questi grafici, cioè quello che oggi se noi parliamo di bolla, di valutazioni stratosferiche sono soprattutto legati al blocco azioni americane perché se andiamo a prendere Europa, buona parte anche dell'Asia, le valutazioni oggi non sono storicamente molto elevate, però questo grafico era molto interessante, avevo fatto un po' di mesi fa, motivo per cui anche su alcuni portafogli avevamo aumentato il peso della Germania in particolare e che immaginate un investitore tedesco, siete un assicuratore tedesco tipo Allianz e dovete mettere in portafoglio per i vostri clienti bond che rendono meno 2, meno 3 o comprare azioni che rendono comunque come se dessero al 100% di dividendo il 4, 5, 6% l'anno, per quanto possono essere salite la scelta è molto favorevole sull'azionario, non a caso nell'ultimo anno nonostante tutti questi allarmi l'azionario ha ottenuto grandi risultati. Per finire, anche se mi dispiace che dedicherò poco a Bogle, Paolo Legrenzi l'ho citato, il tema del cervello e Legrenzi introduce anche nella sua analisi un altro tema per cui addirittura il miglior investitore, questo devo dire che anche personalmente l'ho imparato negli anni è uno che impara a prendere distanze dai propri soldi, se investe il portafoglio non dovrebbe guardarlo, dovrebbe prendere la password e buttarla, non dovrebbe guardare come va, perché più lo guardi più ti viene voglia di entrarci, più ti viene voglia di entrarci se sei un investitore, più fai cazzate, scusate la parola poco scientifica, John Bogle non c'è tempo, magari comunque prossimamente parlerò anche di questi argomenti, quindi dedicherò un focus in parte su questi argomenti e su altri, quindi purtroppo siamo al saluto, però comunque vi ho accennato il tema veramente molto bello che John Bogle ha introdotto, cioè sui rendimenti che non sono sicuri, ma i costi sono importanti, il tema dell'industria del risparmio gestito che lui demolisce e ha dimostrato che purtroppo è vero, anche se in Italia non funziona, questa tabella fa vedere nell'arco degli 10, 20, 30 anni qual è l'effetto sui costi, cioè che il vostro gestore, il vostro private banker se vi applica il 2, 3%, il 3,5% vi porta via, ma è facile da capire, il 30, 40, 50% del capitale facendo a muina, come si direbbe a Napoli, come direbbe Pietro. E quindi è stato un po' una veloce cavalcata, mi ero dato un obiettivo troppo ambizioso in 60 minuti di toccare questi temi, ma spero che siano stati di stimolo per far capire alcuni punti che sono secondo me importanti per chi investe e che poi possono essere approfonditi naturalmente da ciascuno di voi, se vorrete anche attraverso il nostro sito, anche se non diventate clienti potete registrarvi, tra l'altro se volete vi posso dare come spunto, avevo fatto qualche mese fa una conferenza che trovate ancora disponibile a questo indirizzo aaa2021soldiesper.com, una roba chilometrica, io sono per, in cui avevo trattato diversi di questi temi per alcune ore parlando proprio anche di asset allocation, spiegando anche perché noi siamo arrivati a un modello di diversificazione non solo degli asset ma delle strategie partendo dall'assunto di questa analisi che avevo fatto un po' di anni fa che vi fa vedere che non c'è nessuna strategia o basata su portafogli passivi, lazy tipo all season piuttosto che momentum, cioè non c'è un anno in cui una funziona, per questo secondo noi può essere interessante diversificare non solo gli asset ma le strategie. Lettera settimanale ve l'ho detto, vi ringrazio molto, ben contento di essere stato con voi per questa oretta, è pomeriggio, tornerò su questa scena in una veste un po' particolare perché farò il moderatore di due moderatori, saremo qua alle 15.15 credo con Deborah Rusciani e Mauro Meazzo di Radio 24 che parlano di due loro fatiche letterarie, hanno fatto due libri sull'investire e sul risparmiare e mi hanno chiesto di fargli un po' di domande, adesso mi studierò nella pausa pranzo qualcosa per parlare di investimenti e risparmi con due degli alfieri di Radio 24. Grazie molto.